Cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, il bilancio complessivo delle dodici formazioni ennesi impegnate nei quattro campionati regionali di calcio. Nel campionato di eccellenza la Leonfortese subisce una sconfitta fuori casa contro il Mazzara per 1 a 0. Sempre male la San Sebastiano che perde in casa contro il Rocca di Caprileone per 3 a 0. In classifica mantiene il primato la Leonfortese con 40 punti, ultimo posto per la San Sebastiano con 9 punti. Nel campionato di promozione vittoria casalinga per la Gira Nistoria contro l'Aci San Filippo per 2 a 1. Turno di riposo per il Troina. In classifica il Troina è dodicesimo con 15 punti, la Gira Nistoria è quattordicesimo penultimo con 11 punti. Nel campionato di prima categoria frenata la rincorsa al primo posto della Barrese che pareggia fuori casa contro il Città di Castellana per 1 a 1. Vince lo Sporting Catena Nuova contro l'Oi 1 Ramacca per 3 a 0. In classifica la Barrese rimane seconda con 41 punti, lo Sporting Catena Nuova è nono con 18 punti. Nel campionato di seconda categoria Girone C questi risultati della quattordicesima giornata. Valguarnerese Geraci 1 a 1, Valle d'Olmo Branciforti 3 a 2, la Vigneta Polisportiva Trinacria 1 a 3, Libertas Cerami Real Catena Nuova 3 a 4. In classifica Real Catena Nuova è primo con 26 punti, settimo posto per la Trinacria con 21 punti, nono posto per la Vigneta con 17 punti, decima la Branciforti con 16 punti, undicesima la Valguarnerese con 14 punti, dodicesima ed ultima la Libertas Cerami con 5 punti. Nel Gironelle Comunità Frontiera Nuova Villa Seta 5 a 2, la squadra di Piera Persia è in classifica e seconda con 27 punti.